sai Francavilla ha battuto il Palermo ma non dire pagliacciate ma per favore allora andiamo a controllare non c'è bisogno andiamo a controllare su Google e bello ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Manfredo e oggi purtroppo il Palermo ha perso il rimonta 2 a 1 con la Virtus Francavilla e oggi farò un reaccio in più vuoti allora il Palermo prima passa in vantaggio con Valente poi il o la Virtus Francavilla pareggia e poi all'86 il Palermo sprofonda e perde e fanno il gol del 2 a 1 e poi ci sono stati 8 minuti di recupero cioè nel calcio ce ne erano anche di più ma vabbè e siamo con i voti Pellagotti 6, Accardi 6,5 Lancini 5, Somma 5,5 Crivello 5, OGR 5,5 Palazzi 5, Luperini 5,5 Canutè 4,5 Lucca 4,5 Valente 7 che almeno ha fatto il gol Mario Santana quelli subentrati Santana senza voto Saraninti senza voto Bro 5,5 Rao 5,5 Silipo 5, il mister gli do un 5 e la squadra gli do un 5,5 e andiamo ai voti della... del... come si chiama? della... come si dice? della Virtus Francavilla allora... allora... andiamo... e... crispino 5,5 non è crispino quello del collegio ce lo dico... e... crispino 5,5 del vino 6,5 pan bianchi 6,5 capo... caporale 6 Giannotti 5 ma come si chiama questo? allora... qua... allora... e... non ci vedo... no... e... si chiama... tuket... kowa tuket kutowa 5 e Franco 6 di Cosmo 6 Nunzella 5,5 e... Ciccone 7,5 e... Vasquez 7,5 allora... e... i subentrati e... e... Castoreni 7 e... Genuni senza voto e... 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 Carella senza voto e... Mastro Pietro senza voto e al mister gli do un 7 e alla squadra un 8 perché ha sbancato Palermo e... niente ragazzi il video finisce qui e... ci vediamo alla prossima partita del Palermo che sarà contro... contro il Teramo in casa e... niente ragazzi ciao! ciao! ciao!